Diciamo che lo facciamo, noi saremo a corto di uomini, lo sapete? Ma lavoriamo con quello che abbiamo? Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci. Faremo anche questo insieme. Diamo il meglio a fatto compiuto. Siamo gli Avengers. Noi vendichiamo, noi non preveniamo. Ti fidi di me? Mi fido. Non potevate sopportare il vostro fallimento. Dove vi ha condotto... di nuovo da me. di nuovo tra queen. Grazie a tutti.